ciao a tutti amici e amiche ben ritrovati dalla puntata della domenica oggi devo non lo so avrò scoperchiato il vaso di pandora è arrivato scusate sono arrivato un pochettino di mail che ho dovuto selezionare anzi chiedo scusa a molte persone a cui non ho letto la mail che sono una marea però molte di queste che non ho letto oggi faremo una puntata integrativa settimana prossima perché ce ne sono veramente una follia allora siccome qualcuno si lamentava per lamentare per modo di dire che non c'erano più le puntate o le mail come il venditore sdraiato sotto la macchina beh non c'è una cosa del genere ma vogliamo dedicare questa puntata anche alle fregature che già di suo arrivano vedi quelle che succedono a me in più andiamo anche a cercarcele e metto dentro anch'io quindi non sono diverso dagli altri allora vedete che c'è il mister con la mia frutta contenitore in più andiamo anche a cercarcele quindi da qui il titolo ma alla gente piace veramente prenderlo partiamo con la prima mail che dà il titolo a tutta la puntata quindi jean che ha scritto la mail jean è un nome di fantasia quindi chiaramente mi viene da ridere però da titolo tutta la puntata poi gli altri vengono tutti a ruota naturalmente alla gente piace prenderlo nel posteriore è stato elegante buongiorno sono un tuo piccolo amico e fan matteo da bergamo scusa il titolo molto molto edulcorato ma per dovere dovere di adattamento e di buon costume non ho scritto il titolo correttamente ma vai va benissimo così a posto premesso che non sono qui a fare la morale a nessuno o insegnare a qualcuno come non farsi fregare ma dopo l'ennesimo video della repubblica della domenica nello specifico le mail del ragazzo del freelander quindi parliamo di domenica scorsa non potevo non scrivere un mio pensiero premetto che poi si capirà nel seguirsi della mail lui è uno dei miei pochissimi amici proprio amico amico che fa il meccanico ok quindi lavora nella bergamasca ma per quale ma per quale motivo la gente non si rivolge a un esperto lettere maiuscole perché ci sono persone che si impuntano su qualcosa che non gli va bene mi spiego con un esempio che mi è capitato a fagiolo giusto la settimana scorsa mi chiama allora un attimo perché allora mi chiama un ragazzo e mi dice che ha una multipla metano che ha appena ritirato già lì è un problema comunque va bene e che però ha la temperatura del liquido radiatore alle stelle ed è all'uscita di dalmine mi dice che ha già contattato altri meccanici che però erano tutti occupati ore della chiamata 12 25 quindi lì li posso capire gli dico di passare nel pomeriggio di fermarsi nel più breve tempo possibile e far raffreddare un po il motore e di venire da me alle 14 mi ha ascoltato ovviamente no dopo circa 10 minuti arriva da me è pazzesco è una roba pazzesca ed è vero è verissimo gli faccio spegnere immediatamente l'auto che chiedeva pietà da quanto andava la ventola doveva succedergli a luglio una roba del genere così sai come il motore pistoni addirittura uno ha sciolto il collettore di aspirazioni di plastica di una 500 c'è una roba pur di non fermarsi comunque gli ho cambiato il motore qui viene il bello allora quindi qui viene il bello quello che vi ho appena raccontato è solo la prefazione il ragazzo è partito da treviso per acquistare questa multipla perché dalle sue parti ce n'erano poche meno male e per le sue tasche avevano prezzi superiori ha pensato bene quindi di vedere alcuni annunci fuori regione e ne ha trovata una lambrate milano di suo gradimento quindi dopo qualche scambio tra lui e il venditore si sono accordati per il ritiro quindi parte alla volta di lambrate in treno senza mai aver visto dal vivo né tantomeno provato l'auto qui mi fermo con il racconto perché mi tremano le mani mentre scrivo perché non è possibile una cosa simile ora con calma mi spiego lui è partito in treno per acquistare un'auto pagata a mio modo di vedere e io aggiungo anche col mio più del dovuto piena di graffi non controllata da tempo sia a livello di manutenzione sia a livello di collaudo quindi parliamo di revisione sì signori perché la macchina stava venendo consegnata senza collaudo fortunatamente se ne è accorto il ragazzo almeno quello e l'hanno fatta prima dell'acquista e del passaggio di proprietà il cofano non veniva aperto da mesi si capisce dalle foglie secche ragnatele e polvere che aveva aprendo il baule che non resta su perché suoi ammortizzatori scoppiati e per finire così per dire perché sto tralasciando radio palesamente staccata la sera prima parasole che cade copri cerchi mancanti eccetera eccetera la macchina dentro è più sporca di una discoteca a fine serata questo è il proprio aspettiamo i meme quindi una merda ora come si fa ad acquistare un'auto del genere la sua risposta ormai ero lì volevo la multipla che dovevo fare vabbè ridiamo perché chiaramente siamo già tristi per altre cose della vita almeno queste cose mi fanno sorridere inorridito ma vado avanti con il racconto così capite perché ho scritto questa mail torniamo alla vettura in officina abbiamo cambiato il termostato il liquido radiatore che non ne aveva neanche più dentro perché l'avrà già buttato fuori tutto e la macchina è tornata con la sua perfetta temperatura in esercizio abbiamo verificato i vari livelli generali quali olio motore olio cambio olio servostezza abbiamo fatto un abbiamo fatto un rabbocco generale visto che era tutto al minimo gonfiato le gomme che erano quasi sgonfi ovviamente fissato la batteria che anche quella era stata palesemente sostituita in qualche maniera e vari controlli visivi come naturale che sia provo la provo per qualche chilometro per vedere un po come messa e che la temperatura non salga riscontro tra l'altro lui mi ha mandato le foto però mi è già venuto sulla colazione a me quindi va bene così prova la macchina frizione che stacca più in alto della torre eiffel quindi finita completamente ammortizzatori andati più del gobby dopo tre litri di birra l'oktoberfest e freni praticamente a ferro torno con la diagnosi in officina e lo chiamo abbiamo sostituito il liquido radiatore il termostato e la macchina è tornata a funzionare regolarmente abbiamo fatto i livelli gonfiato le gomme però ci siamo accorti che ci sarebbero altre cose da fare la sua risposta innanzitutto ti ringrazio i lavori li farò eseguire dal mio meccanico di fiducia e la frizione il proprietario mi ha detto che l'aveva fatta non tanto tempo fa vabbè mentre sto scrivendo questa mail martedì 15 ottobre alle ore 7 30 la vettura è ancora in officina ma come direte voi vi racconto l'ultima si fa per dire perché ce ne sarebbero tante altre ma più che una mail diventerebbe un libro la vettura in questione non è assicurata premesso che sopra non vi ho scritto che la vettura è stata acquistata da un privato perché voleva arrivare perché volevo arrivare a questo il privato aveva detto all'acquirente che la vettura era assicurata per altri 15 giorni anche se veniva fatto il passaggio non sentivo una cazzata così grande dai tempi di renzi al governo manco io vabbè comunque io ho provato una macchina senza assicurazione come un pirla fidandomi del cliente fortunatamente senza incidenti o multe ma la macchina è ancora qui in quanto ci sono problemi per fare la nuova assicurazione per concludere tralasciando che è stato un privato come si fa a vendere una macchina in questo stato magari anche in maniera ingenua da inesperto chi lo sa magari era in buona fede ma invece come si può acquistare un'auto che non si palesa bene quando si va a vedere lascio a voi il verdetto e le considerazioni scusa gabri per la lunghezza della mail spero tu possa perdonarmi un grandissimo saluto a tutti i tuoi collaboratori e una carezza a delta grazie a te allora io faccio un solo appunto perché la mail si commenta da sola in fondo e vi dico un'altra cosa ammesso che l'autoveicolo possa essere assicurato per altri 15 giorni che ti dico io che cos'erano i 15 giorni la polizza assicurativa era scaduta e ci sono i 15 giorni canonici in cui sei coperto e prendiamoci a gomitate su questa cosa ma attenzione c'è un problema grande lasciando stare il discorso canonico dei 15 giorni mettiamo che la macchina abbia appena fatto la polizza una settimana prima e avesse fatto una polizza semestrale o annuale che non è questo il caso perché vedendo la macchina da straccione che ha comprato non credo che il vecchio proprietario abbia fatto una cosa del genere ma fa niente attenzione nel momento del passaggio di proprietà cambia l'intestazione del veicolo non è valida perché se tu fai un sinistro ok questo esce mettiamo che la macchina non si guastava e lui da casa sua andava a treviso ok in autostrada tamponava una macchina aveva un bel incidente a chi è intestata la macchina voi avete appena fatto il passaggio di proprietà l'assicurazione appena decaduta perché il contraente della polizza è appena cambiato quindi quando si vende quando si compra o si vende una macchina si manda tempestivamente l'atto di vendita in agenzia di pratiche in assicurazione per fermare la polizza attenzione se qualcuno vi ferma o le telecamere vi fanno la foto se è realmente assicurata e quindi non è neanche questo caso sono già molto più avanti se non vi dicono niente perché la macchina a tutti gli effetti assicurata io vi parlo in caso di sinistro perché in caso di in caso di controllo uno guarda sì e no l'intestazione non sa chi è intestata la polizza guarda con la targa la macchina assicurata e va controllo non problema i problemi vengono fuori quando ci sono i problemi quindi questo potrebbe essere stato un problema grossissimo in questo caso è ancora più grande perché la macchina non è assicurata io teo ti consiglio sempre di spostarti con la targa prova sempre sempre perché come è successo a me anch'io ho sbagliato una cosa del genere la vivo in officina ma non ha sentito ma comunque fa niente questo è quello che mi è successo quindi ti capisco benissimo ora il problema e ne leggeremo anche altre ce ne sono tante altre il problema e lo dico problema perché sono un operatore del settore quindi conosco bene il il problema il problema delle auto storiche ha tirato dentro anche le macchine che non sono storiche improvvisamente la gente si è innamorata di modelli che reputava validi allora la multipla è stata una grandissima macchina all'epoca preferisco la jtd piuttosto che quella metano ma lui la verrà presa per i blocchi del traffico o comunque per il costo del carburante va bene ma sono macchine al 95 per cento sono buono tutte sfruttate perché le avevano in mano i tassisti i chilometratori o chi l'ha usata anche per caricare perché era una macchina orribile a vedersi e su questo è fuori da ogni discussione ma estremamente versatile tre posti davanti è stata un'idea geniale di fiat questa però cosa voglio dirvi questa macchina qui poco poco avrà 12 ma di più perché per me del 2007 2008 2009 saranno quegli anni lì della macchina a metano ma se tutto va bene avrà 300.000 chilometri 250 cioè tra l'altro nel 1600 16 valvole io non so i flauti quando ero in fiat degli iniettori del metano che cambiavamo termos le bobine cioè io nell'epoca ne facciamo tantissimi perché avevamo fiat e poi avevamo tanti tanti tassisti che avevano quella macchina lì prima con i jtd e poi con copiato il boom del metano con quella metano c'era anche nella prima serie la b power che mi sembra che non fosse a metano ma era gpl comunque va bene questo non voglio dire che non sia una macchina valida ma poteva essere il caso sempre stato in casa fiat di una stilo cioè o becchi l'esemplare che non ha strada e non è questo il caso ma poi scusami anche nei panni al venditore che sia un privato non gliene frega niente a 9 persone su 10 non gliene frega niente di che cosa tu stai comprando quindi con la macchina giro la chiave va questo gli avrà staccato la radio la sera prima come ha detto teo poi tra l'altro la multipla aveva la sua radio in plastica del colore della plancia con scritto multipla mi sembra quindi l'avranno cambiata avrà messo su una radio ma nel 2024 chi tira giù ancora le radio come negli anni 90 nei primi 2000 cioè vi fa capire che è quello che non ha controllato neanche l'olio perché questo non ha tirato su neanche l'astina dell'olio perché sarà stata nera come il carbone e mancava l'olio ma controllare l'olio parliamo di controlli da benzinaio non da meccanico cioè cose proprio semplicissime le gonfiare le gomme poi ecco le sfighe tutti agli altri cioè questo qui ha preso la macchina lambrate aveva la ventola che girava a cannone ad almine attenzione che è successo il 15 di ottobre il 10 che che cavolo ne so non faceva caldo per me quella macchinina aveva già un problema prima quindi lui da lambrate ha fatto l'autostrada a quell'ora lì di traffico non ce n'era perché si è partito intorno alle 11 è andato via bene ma se succedeva una cosa genere d'estate questo qua faceva 400 metri si fermava quindi la macchina aveva già un problema solo a me capitano le cose che consegno le macchine dopo mille chilometri hanno un problema perché prima andava bene gli altri invece girano alla chiave a lambrate si fermano ad almine quindi ad almine già era fottuta perché temperatura che era come il mio quindi voglio dire però il vecchio proprietario va bene così prima andava bene neanche le gomme ha gonfiato questo neanche le gomme andiamo avanti perché ce ne sono dei voi dovete capire che cosa c'è in giro che cosa c'è in giro poi abbiamo mail come quello del come il venditore della volta scorsa che l'ha venduta perché adesso non sto non ho stampato la mail quello della delta con 20.000 chilometri la macchina sta radiata per esportazione quindi è andata all'estero e l'ha venduta 8.700 euro mi ha scritto una mail e l'ha venduta all'estero il che vuol dire che non c'è stato un italiano che ha capito quella macchina ma non perché una delta potrebbe essere anche una renault clio che andava benissimo con 20.000 chilometri era una macchina nuova a benzina faceva il suo servizio ancora per un sacco di anni ma la gente vuole pagarla un cocomero un peperone e poi compra queste robe qua le ripara sono comunque dei cessi perché è sempre un cesso riparato ma va bene così sentite questa la fantastica disavventura dell'audi 4 ciao gasi follower da lungo tempo ne approfitto del tuo invito per raccontare la mia raccontare le esperienze avute con i venditori poco raccomandabili per condividere quella mia di qualche settimana fa stavo cercando un muletto a trazione integrale da usare sulla neve questo inverno e trovo che l'audi a4 b6 scusate che sto controllando anche le telecamere se arrivano perché stiamo lavorando siamo aperti è sabato mattina voi lo vedete di domenica ma è sabato mattina trovo che l'audi a4 b6 milenove tdi 4 possa fare al caso mio avendo il motore tdi super affidabile la trazione a doppio torsen a un prezzo mediamente contenuto concordo ma secondo me le 4x4 se le fan pagare comunque dovendo accompagnare un amico nel cremonese piacentino colgo l'occasione per andare a vederne una trovata su facebook a fiorenzuola darda l'auto in vendita 1500 euro 350 mila chilometri e qualche segno di carrozzeria quindi già sapevo di andare a vedere un bidone ma era proprio ciò che cercavo in realtà benissimo ma neanche lontanamente mi aspettavo ciò che poi ho trovato mi metto d'accordo con il venditore che già sapevo essere extra comunitario ma poco importava che mi dà appuntamento fuori da un bar a dir poco losco e mal frequentato già uno che dà l'appuntamento al bar io la macchina non vado neanche a vederla ma neanche se fosse una macchina da 50 euro io poi non lo so provo a farla breve quello che mi si presenta è un rom in completo adidas che a malapena parla italiano mi mostra il rottame messo molto 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 peggio di quanto sembrava dall'annuncio dicendomi che l'auto è perfetta distribuzione appena fatta e sempre tagliandata la vaschetta dell'acqua era completamente nera e mi invita a provarla lì davanti l'auto non è assicurata senza targa prova faccio qualche metro assieme al mio amico e per carità l'auto sembrava anche funzionare ma quanto si possa capire in da 200 metri di prova non lo so insomma chiudo la trattativa dicendo che ci risentiremo e lì scatta la sorpresa subito prima di andarci nel mio amico molto più accorto di me su tanti dettagli si china dietro la macchina e mi dice ma scusa i semiassi dove sono mi chino anch'io e do un'occhiata veloce dico ma sì saranno lì sopra coperti dai bracci magari con l'auto a terra non si vedono e mi rialzo anche perché avevo la soggezione di quel farabutto che ci guardava ripartiamo e nel viaggio di ritorno lui continua a sostenere che i semiassi non ci siano così inizia a dubitare che l'auto sia una sia una versione anteriore pur avendo tutti gli emblemi 4 originali al posto giusto faccio un rapido controllo targa ed effettivamente la macchina è matricolata come una 4 cioè integrale cerco un po di foto del sottoscocca su internet e mi convinco i semiassi posteriori mancavano davvero quindi l'auto era sì un 4x4 ma funzionava solo come trazione anteriore mica mi immagino anche le spie avrà avuto anche le spie del controllo di trazione accesa qualcosa avrà avuto senz'altro cristo lo faccio presente con un messaggio al venditore che subito parte con degli audio carichi di insulti a me mia madre la mia famiglia pompini ti vengo a cercare eccetera eccetera insomma il classico comportamento del venditore professionale c'è una soluzione a tutto questo è lo dico non posso andare oltre ma c'è c'è molto semplice ora quello che mi lascia veramente spiazzato non è tanto il rottame che ho trovato ma il fatto che questo avesse una decina di auto tutte senza assicurazione ed un carro attrezzi con tanto di classico cartello compro auto di tutti i tipi anche con fermo amministrativo in bella vista su un vialone principale di fiorenzuola letteralmente a fianco alla caserma dei carabinieri è possibile che questa gente operi così tranquilla e indisturbata nessuna traccia di assicurazione targa prova partita iva ufficio nulla solo una decina di auto esposte tranquillamente in una piazzuola assurdo mi fa piacere se condividi per allettare le persone un saluto a tutti un abbraccio però a me vengono a controllarmi dopo vi racconterò cosa è successo delle macchine faccio farò una puntata unica quando è tutto chiuso vengono magari a controllarmi se la tensostruttura ha il pannello che lascia traspirare l'acqua oppure no perché deboli con i forti e forti con i deboli è naturale sanno da chi andare a prendere i soldi o eventuali altre cose sanno da chi non prenderebbero nulla quindi non perdono neanche tempo questa è la repubblica delle banane ragazzi cosiddetta italia poi i problemi ci saranno anche all'estero e non dico di no io parlo del mio stato perché posso dire cosa c'è a casa mia io a casa degli altri non lo so quindi non giudico ma vi posso dire che a casa mia ci sono parecchie cose che non vanno non casa mia casa mia a casa nostra scusate acquisti folli e venditori furbi oggi siamo a cannone puntata pazzesca un miliardo di view fate girare questo video non lo dico mai perché non serve però fatelo girare ciao gabrile sono un ragazzo di 28 anni ti scrivo da verona ho deciso di raccontare a tutti a te e a tutti quelli che ci seguono questo utile episodio dopo aver ascoltato la mail riguarda l'acquisto della moto del 96 che hai seguono sono molti più di quello che pensi mi fa piacere tra l'altro sono aggiunte anche delle ragazze una in particolare che è una motociclista che saluto tanto qualche mese fa prima dell'estate un ragazzo conosciuto ad allenamento sapendo che sono un motociclista e appassionato di moto ha deciso di chiedermi qualche consiglio in merito all'acquisto della sua prima moto all'età di circa 30 anni parte dicendo di essersi innamorato di una media sportiva di nuova generazione secondo me abbastanza adatta per cominciare anche se come prima moto io consiglio sempre un usato dal momento che è probabile qualche scivolata o caduta da fermo dovuta all'inesperienza cerco di capire cosa vorrebbe fare con la moto di guidarlo verso i modelli migliori più affidabile inizia questa è una cosa che ha messo tra parentesi molto bella iniziare una passione con rogne e spese è il modo migliore per spegnerla questo è importantissimo è verissima questa cosa quindi michael è verissima bravo la sposo in pieno verso i modelli migliori più affidabili e al prezzo giusto niente mi manda pre mi manda annunci folli di super sportive da cilindrate e potenze adatte a piloti e dopo qualche giorno di silenzio mi dice di aver fatto il grande acquisto ktm 990 duke questo che si dica così 2024 nuova di concessionario la moto in questione è una belva nervosa rigida quel passo cortissimo da ben 123 cavalli per 179 chili è un cannone sta cosa io non so neanche che forma abbia però insomma tutto quello che si sconsiglia come prima moto alle mie perplessità riguarda questa costosa scelta mi risponde no no tranquillo il venditore mi ha detto che grazie a tutta la sua elettronica è perfetta come prima moto dopo affrontiamo questa cosa che è una roba che si gira anche sulle auto tralascio la penosa evoluzione della vicenda e passo subito a ciò che può essere utile a tutti noi ma è possibile che il venditore di un concessionario ufficiale non uno scappato di casa di quelli cui parli spesso consigli una moto che è potenzialmente un'arma a un neofita spesso si crede che passando dalla rete ufficiale si possa trovare la cultura e il buonsenso adatti a guidare gli acquirenti al miglior acquisto ma purtroppo sempre più spesso l'unico obiettivo è fare soldi e farle in fretta sarebbe molto meglio chiedere consigli ad amici o conoscenti con più esperienza che non hanno nulla da guadagnare e anche se si ricevono risposte che smorzano la voglia di comprare determinati veicoli un caloroso saluto a tutta la gasi officine famiglia una carezza delta grazie mille per il servizio gratuito che fai da anni a noi appassionati con tutti i tuoi video michael allora grazie mille io cerco di rispondere a due passi molto importanti che hai scritto nella mail perché penso che tu voglia anche il mio parere allora l'ultimo punto io sto cercando e adesso udite udite ci sono quasi arrivato la pace dei sensi non fisica perché quello no la pace dei sensi a livello economico questo vuol dire che i soldi ci sono ma non sono mai abbastanza c'è anche un detto che dice ecco io non voglio arrivare a questo punto io voglio arrivare a una tranquillità che per me è una tranquillità perché non sono uno che ambisce più non ambisce più a più di tanto ma vuole la vorrebbe perché non ce l'ho ancora la tranquillità mentale ed emotiva che è una cosa che non c'entra niente con la tranquillità di portafoglio certo non devo essere un morto di fame perché non voglio chiedere non vorrei chiedere niente a nessuno non lo chiederò anche perché non c'è però quello che voglio dire vorrei raggiungere questa cosa e ci sto quasi arrivando ok in modo da poter lavorare di meno ma non lavorare di meno nel senso stringere meno bulloni o parlare con meno persona avere meno lavorazioni che ti portano via l'anima voglio oppure troppi impegni troppe cose costose che ti dicono cazzo questo costo devo per forza fare questo e quindi dopo si fanno le cose contro voglia si vuole crescere diventa una corsa all'oro e cambia la personalità della persona di tutti noi quindi il danaro è una brutta bestia non ho fatto non ho detto una frase fatta ho detto veramente quello che penso quindi vi posso dire per quello mi piacerebbe fare anche consulenza perché questa cosa mi permetterebbe di visionare le macchine di liberamento guarda secondo me questa macchina è un cesso non prenderla oppure andiamo a vederne un'altra esempio quindi questo la gente le concessionarie hanno degli obiettivi l'obiettivo è il danaro la vendita perché sono imposte da loro stessi dai loro capi gli danno i premi quindi è chiaro che entra uno che non capisce un cazzo vuole comprare la moto questo qua gli ha venduto l'audi rs6 delle moto in quel momento magari aveva fatto poco numero sto sparando non lo so non la conosco doveva fare budget stiamo andando verso la fine dell'anno questo è un periodo che si vende meno sto facendo delle ipotesi però dovevano chiudere cercare di chiudere il bilancio gli hanno venduto decantandogli quello che non era attenzione perché l'altro concetto che ha scritto è molto più grave del secondo ed è verissimo il venditore mi ha detto che grazie alla sua elettronica è perfetta come prima moto allora partendo dal presupposto che il venditore deve venderti la moto quindi non ti dirà mai non prenderla il venditore che ti dice così è quello che avete di fronte nella telecamera che è un pirla mia mamma che è spesso in quando sono io al telefono che magari qualcuno chiama per una macchina io ho ancora parecchie macchine invendute non c'è problema le mie macchine si vendono con calma sono qualcuno mi sta pensando plurito le mie macchine si vendono con calma quindi non ho fretta grazie a dio non invecchiano e se invecchiano vanno meglio scusate se invecchiano vanno meglio quindi va bene certo mi piacerebbe vendere ma non devo correre io molte volte ma moltissime volte perdo delle vendite al telefono poi magari sono delle chiacchiere ma hanno provato a chiamarmi persone per il range rover quello verde dell'alberto mi ha chiamato in due per il quattro porte perché sì ok no molto bella e io ho la casa in montagna tipo il range rover faccio un esempio non so se mi ha detto che ha la casa cortina non so e vado su spesso quindi vado su tutte le settimane e poi mi capita anche di usarla giornalmente un range rover dell'88 3500 benzina non è la tua macchina con la famiglia su e il cane e se succede qualcosa cioè questa è una macchina amatoriale che poi possa andare è un altro discorso ma non è il suo utilizzo maserati quattro porte bellissima che questa è bella davvero e va molto bene ok mi piacerebbe poter cominciare insomma non è ancora un'auto d'epoca la userei come prima macchina però io diciamo sono un buon operaio sto sui 2000 2200 euro al mese non è la tua macchina faccio che altra macchina hai e no perché ho una 500 l come l come lascia perdere comunque una 500 l che stiamo vendendo mi piacerebbe prendere una berlina sportiva insomma l'automaserati mi piace un'altra persona avrebbe detto ma che cazzo me ne frega questo mi ha telefonato vuole la maserati poi magari non aveva i soldi per comprare ma comunque alla maserati vuole usarla tutti i giorni ma prende 2000 euro al mese compratela ma figa ma è una cosa assurda perché io bene o male ho trovato dei bastardi ma ho trovato anche dei professionisti nel mondo delle armi grazie a dio mi appoggio dei professionisti se non so sparare non vado a comprare una 44 magno ma canna lunga perché non è la mia pistola cioè mi devo avvicinare a questo mondo incomincio con il tiro statico devo prendere un'arma veloce comoda economica nelle munizioni che non abbia problemi di inceppamenti almeno di regola ma non esiste ho capito che ce l'hai lì devi venderla ma ma non è un pochino di etica questo ti chiede va bene per me l'elettronica ragazzi guardiamo discorso dell'elettronica non vince le forze della fisica anzi ve le peggiora perché vi sposta in là il limite della moto che c'è lo stesso per questa questa moto non avesse avuto i controlli di trazione l'attacco del pneumatico a terra l'impronta terra è sempre quella vi può aiutare vi può spostare in là la cazzata ma come voi la fate andate perché voi siete sicuri ah sì piego o magari a fondo tanto la macchina c'è il controllo di trazione o la moto c'è il controllo di trazione è la volta buona che vi vi sbacchete andate dentro al brico io qua in fondo come ho fatto settimana scorsa cioè non questo questo ragionamento qua non esiste poi scusami ti affidi a un tuo amico che è un motociclista ok quindi una persona che ne sa e tu che cazzo fai fai il contrario totale di quello che gli hai detto lui ti ha detto comprate una moto usata non che vada forte maneggevole tu hai comprato una moto nuova che va forte non è maneggevole di conseguenza come per dire ascolta gabri io mi devo mettere a dieta secondo te cosa devo prendere ma guarda secondo me ti consiglio di prendere questi tre cibi e io vado a mangiarmi una pizza specchepanna bevo quattro birre e mi mangio due frappe al cioccolato non telefonarmi cioè fai di testa tua ma non chiamarmi a me queste cose qua mi stanno sulle madonne perché è una cosa che non riesco a concepire se io chiamo un amico e ho bisogno di un consiglio non è che magari devo seguirlo alla lettera ma se io faccio il contrario di quello che mi ha detto la prima domanda è ma allora che cosa me l'hai chiesto a fare a me per esempio mi piacerebbe una cosa che mi è balenato in testa di prendermi perché ce l'ha un mio carissimo amico una bmw una moto bmw la parlo d'epoca perché è un k1100 però è una moto pesantissima io non sono un motociclista mi fa una paura fottuta quindi magari rischierei di prenderla e metterla lì e non usarla mai anche se a vederla mi piace molto quindi quando arriverà il momento magari prenderò una moto molto più easy proprio tranquilla io devo andare a passeggio però questa moto qua mi piace molto ma mi rendo conto dei miei limiti di questa moto che non ha abs non ha niente anche se non ha una cavalleria esagerata una moto costosa vecchia perché una moto dell'89 del 90 che mi affascina ma deve restare un sogno perlomeno per un bel po di tempo magari per sempre andiamo avanti perché la giornata di oggi gettone trick una truffa che riguarda tutti titolo della mail ciao ragazzi sono francesco salti complimenti ma oggi ti vorrei parlare di una truffa che per fortuna non è capitata a me ma credo che possa capitare a tutti questo aneddoto che sto per raccontare è successo nel 2023 nel 2023 come ogni appassionato del periodo invernale visito le varie fiere che conosciamo tutti a tema di motore più precisamente un anno fa ho visitato l'eikma quel giorno dopo aver fatto i nostri giri all'interno della fiera stiamo avvicinando all'uscita un mio amico che ha il vizio di fumare chiede a tutti a tutti del gruppo di fermarci un attimo per fumare una sigaretta una sigaretta avevamo camminato tanto e non ci eravamo fermati un attimino quindi era anche una scusa per fare una sosta nel mentre eravamo fermi noto da lontano due personaggi che stavano importunando un gruppo di ragazzini guardandoli bene noto che erano quei truffatori che ti chiedono una somma in danaro lì noto delle numerevoli cartoline che avevano sulle mani questi due personaggi stavano iniziando a spintonare questi ragazzi lo faccio notare al mio gruppo e senza stare a pensarci due volte ci siamo avvicinati per vedere se questi qua avevano bisogno di aiuto avvicinandoci notiamo che questi personaggi stavano parlando in modo davvero aggressivo del tipo dammi soldi che finisce male non prendimi per il culo i soldi li avete in quel momento non ci ho visto più e mi sono messo io in mezzo nemmeno il tempo di digli o fare qualcosa questi due sono scappati a gambe legate a gambe elevate come due codardi ma del resto due che grandi e grossi aggrediscono persone indifese sono dei codardi io avrei detto anche un'altra cosa ho cercato di tranquillizzare i ragazzi dicendo di stare calmi che purtroppo capita eccetera eccetera a parte l'educazione che hanno avuto questi ragazzi e mi hanno ringraziato ma notavo che erano ancora scossi dalla paura erano quattro ragazzi il più piccolo aveva 13 anni il più grande 16 quindi molto piccolini a me sinceramente ma credo anche a te questa storia fa arrabbiare davvero perché penso perché prendersela con persone indifese donne bambini anziani ed aviscili ma nel mio piccolo ve la spiego subito solitamente questi truffatori si aggirano fuori dagli stand e ci girano intorno per esempio prima dell'entrata o vicini ai cancelli o ai parcheggi insomma girano a volte hanno con sé penne libri cartoline eccetera ti fermano con una scusa per esempio lavorano per una situazione benefica assolutamente non vero sono degli ex tossici dipendenti non vero insomma magari lo sono anche però non magari non sono troppo ex insomma cercando di impietosirti una volta avuta la tua attenzione ti chiedono soldi un responsabile di fiera milano mi ha detto che fuori dagli stand quelli che chiedono soldi sono dei truffatori quindi non fatevi raggirare per concludere chiedo a tutti il vostro aiuto facendo girare il messaggio a tutti ai vostri amici e nei vari gruppi così che tutti possano essere al corrente di questi truffatori perché una volta ad una persona perché oltre ad essere una persona sono un padre e tutti sappiamo l'angoscia che abbiamo noi genitori quando i nostri figli escono magari per andare in fiera ed è davvero brutto che possano ricevere delle aggressioni o essere importunati da questi personaggi ma soprattutto mettiamoci nei panni di questi ragazzi che con la gioia di fare una bella giornata la devono rovinare o peggio scordare per colpa di questi truffatori che ti aggrediscono per pochi euro per concludere chiedo a tutti voi di condividere il più possibile queste varie cose e aiutare persone non vi costa nulla un saluto una buona domenica a tutti e io aggiungo ce ne sono tantissimi anche fuori da tanti altri posti come a volte ospedali o robe del genere alcuni sono veri altri molto meno ma io noto tantissima indifferenza voglio aggiungere in questo caso c'eravate voi ma io mi domando ma io non sono mai stato al lake ma penso che sia bella frequentata cioè hai una scena del genere in cui hai due persone mediamente grosse adesso non so quanto forse sia parte che con un calcio nei coglioni i ragazzi vanno a terra vanno giù tutti anche se uno è alto due metri e mezzo datelielo bene che va in terra comunque a monte di quello stanno importunando dei ragazzini li vedi ragazzini di 13 14 anni che sono dei bambinetti o poco di più senza offesa naturalmente io dico ma perché siete intervenuti soltanto voi e questo è il problema più grande cioè non è che sei in un parco di notte cioè micchia lì si sarà visto ma una cosa del genere cioè se lo fanno con me figa io mi intervengo immediatamente perché c'è il menefreghismo oppure menefreghismo virgola la paura di mettersi in mezzo ma non penso siano stati armati sti due qui non penso che vanno armati al lake ma quindi ci sono situazioni e situazioni ma io sono sempre per intervenire e cercare di difendere il prossimo soprattutto quando in difficoltà tipo questo andiamo avanti ragazzi stiamo facendo tardi via riflessioni profonde ciao gabriele mi chiamo federico ho 30 anni e da circa 5 sono meccanico professionista di un noto marchio di auto tedesche volkswagen ja ti seguo da tanto tempo probabilmente nel video in cui mostravi le tue tele dalle tue telecamere che avevi beccato i ladri nel piazzale grazie per avermelo ricordato ti premetto che la mail sarà lunga poi non è lunga normale ci ho messo molto e pensare a tutto ciò che ne andrò a scrivere purtroppo qui in italia non abbiamo una cultura automobilistica vera e propria verissimo nel senso che l'automobile vista dal punto di vista delle persone è solo un mezzo di trasporto che deve portare dal punto a al punto b il problema è come arrivano al punto b mi spiego meglio qualche giorno fa è venuta in officina una signora che doveva fare la revisione non aveva le lampadine funzionanti solo gli annabaglianti al che le dico di chi ci saranno da cambiare circa 5 6 lampadine la sua risposta è stata ma sono necessarie per la revisione e qua ci credo perché qua si apre un mondo anche jean mi può rispondere allo stesso modo dopo questa risposta ho capito che non avrei cavato un ragno dal buco e una volta spiegato che le autovetture sono dotate di lampadine per altri motivi non solo per la revisione le ho chiesto gentilmente di andarsene questo è uno dei tanti aneddoti che noi meccanici viviamo quotidianamente passo al punto cruciale bisogna spiegare alla gente che le automobili vanno mano manutenute e non solo lavate fuori e dentro ogni domenica a volte neanche quello fanno è perché basta vedere l'altro purtroppo i nostri nonni ci hanno insegnato che la macchina fino a quando cammina va bene e che la manutenzione è un optional purtroppo non c'è la cultura del tenere la propria auto funzionale in tutte le sue funzioni nessuno cambia l'oreo del cambio nessuno cambia le spazzole quando scrocchiano sul vetro nessuno cambia le gomme per becchiaia le cambiano solo quando si spaccano e a volte ne cambiano solo una nessuno sistema le parti elettriche interne lasciano l'auto allo sfacelo chi fa le revisioni avrebbe il compito di mettere fuori dalla strada queste vetture semi demolite ma invece che guardare chiudono gli occhi purtroppo questa mentalità retrogada non passerà tanto facilmente l'unica speranza siete voi influencer che spiegate le cose come dovrebbero essere un grande abbraccio a tutti e una carezza a delta non tutti gli influencer comunque allora voglio spiegare una cosa adesso magari mi metto qua allora dovete considerare che mi collego al suo discorso perché all'estero soprattutto in germania comunque germania austria francia le macchine hanno avuto diciamo le macchine d'epoca hanno avuto un'impennata e poi adesso c'è una grande stabilizzazione che toglierà secondo me dalle scatole tutti i cosiddetti ravatti o rottami oppure questi ravatti o rottami per modo di dire anche scherzoso verrà assegnato il giusto costo quindi non perché una macchina vecchia automaticamente è d'epoca comunque sia oppure hai una bella macchina anche io ne ho diverse che devo dare via non è che mi nascondo ma abbiamo già regolato molte viti come prezzi e il mio scopo è venderle queste macchine quindi non esiste vendere una delta lx a 10.000 euro ok è un esempio una volta all'estero c'era l'interesse per le macchine d'epoca molto più che in italia mi spiego meglio io che ho frequentato molto i siti mi piaceva guardare i siti delle macchine comprare le riviste io notavo che in italia le macchine si pagavano molto meno per esempio una m io all'epoca ho comprato due m5 e 34 all'estero valevano di più quelle macchine lì che e ce n'erano di più che in italia poi con l'avvento delle macchine d'epoca le iantime tutto quello che è la gente ha riscoperto queste macchine le hanno strapagate hanno fatto innalzare il mercato in molti casi senza lavori fatti quindi il mercato si è innalzato per tutti vedi la multipla di prima io se trovo una multipla bella con un chilometraggio giusto la consiglio ma come consigliavo la delta di quei ragazzi che hanno scritto o magari la nostra delta con 47.000 chilometri non è che tutte le macchine non debbano valere nulla è perché dopo passa un messaggio sbagliato ma bisogna affidare a ogni automobile il giusto prezzo non perché la macchina è vecchia allora automaticamente vale come un targa oro asi fatto davvero targa oro non non rilasciata solo la targhetta ci sono restauri restauri quindi all'estero una volta c'era questo interesse quindi un m5 e valeva molto meno di adesso è ovvio anche all'estero ma valeva comunque di più che in italia ora adesso che tutti hanno comprato tutti quelli che volevano la pancia piena il covid ha fatto solo danni in tutti i sensi più che della malattia quindi la gente adesso si è accorta di avere in mano probabilmente se io ho una 44 magnum però vado a sparare a 10 metri fondamentalmente non mi serve a un cazzo di niente ok devo avere un'arma giusta e una macchina giusta per quello che devo fare per coprire la mia passione i miei spostamenti quindi abbiano delle macchine più grandi di loro a volte non è il caso delle lampadine però il discorso delle macchine storiche è sicuramente riproponibile anche sulle macchine odierne perché fanno le case costruttrici automobili sempre più affidabili attenzione affidabili non vuol dire che non si fermano vuol dire che hanno avrebbero bisogno di una manutenzione di gran lunga inferiore ragazzi una volta all'epoca quando io facevo il meccanico c'erano le 1 che erano nuove non sono non ho i capelli tutti bianchi ma comunque non sono di primo pelo una volta in fiat noi eravamo fiat compravamo anche i ricambi fit parts i ricambi fit parts oggi c'è qualcuno che mi pensa in particolar modo i ricambi fit parts erano praticamente i ricambi gestiti dall'originale ma costavano molto meno erano una sottomarca dell'originale noi chiaramente essendo fiat dovevamo montare fiat le candele fit parts una volta ragazzi le candele di accensione della macchina quelle che duravano di più duravano 10.000 chilometri ma non ci arrivava quasi nessuno a 10.000 chilometri le duravano sempre dai 5 ai 7.000 chilometri quando tiravi giù la candela e aveva fatto 10.000 chilometri era finita era finita oggi le candele fanno 30 60 100.000 chilometri e le cambiano non perché non va più la macchina le cambiano perché quelli che rispetto l'intervallo di manutenzione le sostituiscono ma la macchina va ancora bene quindi se io paradossalmente lasciassi su quella candela magari di chilometri ne fa altri 30.000 ergo i filtri perché io oggi faccio dei tagliandi a 30.000 chilometri e una volta li facevo a 7.500 barra 10.000 chilometri perché le punto turbo diesel le punto eh com'è che si chiamavano le punto no le 188 la non mi ricordo più il codice della punto ce l'ho qua eh comunque va bene la punto quella del 94 95 italiani c'era la td 60 e la td 70 quindi non sto parlando della ritmo diesel eh italiani erano 10.000 chilometri tu a 7.500 chilometri cambiavi l'olio c'era scritto e il filtro lo cambiavi una volta sì una volta no poi noi lo cambiavamo sempre se tu oggi gli dici a uno di cambiare l'olio a 7.500 chilometri questo qua la macchina non te la comprerà mai quindi saranno cambiati i tipi di oli va bene sarà cambiato il motore va bene ma i filtri dell'aria cazzo l'aria che respiri è sempre quella anzi forse è peggiorata quindi i filtri abitacolo filtri abitacolo va cambiato spesso ragazzi è l'aria che respiri tu quindi oggi tutte le case costruttive hanno allungato da paura gli intervalli di manutenzione e la gente è diventata più indisciplinata di una volta cosa vuol dire hanno allungato i periodi di manutenzione in più la gente dice ma sì conosco la mia macchina vai quindi è ancora più grande la cosa pensate a quanta strada fanno quando abbiamo fatto il video della tema turbodiesel vi ricordate il discorso delle candelette è una cosa che si è persa si è persa del tutto oggi se tu una macchina hai quattro candelette bruciate perché le candelette sono ancora adesso con la differenza che non bisogna aspettare per mettere in moto ma con quattro candelette bruciate la macchina parte lo stesso magari non rigenera il fab o alcune hanno dei problemi di fab ma la macchina rigenera comunque cioè parte lo stesso quindi magari uno va in giro con la spia che lampeggia una volta la macchina non partiva e lo dovevi cambiare per forza minchia ragazzi porca puttana allora oggi puntata di 15 ore buongiorno capire mi chiamo riccardo scrivo dalla provincia di udine sono felice possessore di una mazza mx 5 n b fl 1008 del 2001 con circa 116 mila chilometri l'auto è fatta eccezione per un terminale di scarico sportivo possiedo conservato anche l'originale completamente originale prima vernice inolta si trova in uno stato di manutenzione molto buono a detta di tutti coloro che l'hanno vista da guidare risulta davvero piacevole infatti è bellissima l'mx 5 1008 e con buoni doti dinamiche la cosa che più mi interessa di un'auto mi è balzata in testa forse più che più per sfizio che per altro non faccio pista l'idea di montare un assetto sportivo ovviamente conservando l'originale per ora è solo un'idea essendo che non sono effetti non sento effettivamente la necessità di ciò che stavo e stavo riflettendo sui pro e sui contro della cosa vorrei sapere cosa ne pensi riguardo specie per quanto specie per quanto riguarda l'interesse collezionistico della vettura buona giornata a te riccardo allora ragazzi io voglio che smettiamo di essere schiavi delle auto se tu sono le auto al nostro servizio non noi al servizio delle auto soprattutto su queste macchine ora tu hai voglia di farti un assetto sportivo perché ti piace una volta che ti tieni da parte il tuo originale mettiti sull'assetto sportivo godiamoci queste macchine quelli che hanno una macchina con un interno meraviglioso bellissimo magari automobili recenti e mettono i copri sedili da nuove per poi cosa fanno fargli godere i sedili agli altri perché io tiro via i copri sedili all'interno immacolato quindi capisco che uno magari metta come me sulla mia delta che ha l'interno alto in pelle beige gli metta con la tuta da lavoro anche se è pulita gli metta un asciugamano da mare mi va bene ma io quando sono vestito bene e voglio usare la mia macchina mi siedo sui sedili della mia macchina ergo ti piace l'assetto sportivo pensi sia una cosa giusta fallo e fallo potresti anche non farlo vedi a parte gli scherzi fallo e divertiti e goditi la tua macchina che è una gran macchina tra le altre cose io perché non mi piacciono le cabrio solo che mi piacerebbe il milleotto poi col differenza autobloccante top chiudiamo in bellezza andrea un'altra mail mail di getto mai cercare l'usato più economico ciao gabrile ti scrivo questa mail di getto ho finito ora di vedere il tuo ultimo video della domenica sono un viticoltore per muovermi in azienda devo usare un fuoristrada un paio di anni fa stufo di spendere un patrimonio in ricambi decido di sostituire un vecchio discovery del 94 mai più un fuoristrada inglese voglio spendere il meno possibile tanto per muovermi al di fuori dell'azienda ho un affidabile subaru quindi mi serve per muovermi dentro penso faccio un po di ricerche su un noto sito ma non trovo nulla ne parlo con gli amici un amico fa una ricerca sui social io non sono social e mi dice che a pochi chilometri da me c'è un meccanico che vende una vitara lo contatto e decido di andare a vederla di andare a vederla la macchina ha 250 mila chilometri ma vederla così non sembra neanche male e poi mi dico lui è un meccanico se c'è qualche problema mi verrà incontro da lì poi bisogna vedere del discorso dei costi vabbè comunque mi dice così com'è 2000 euro però la macchina ha la frizione che stacca tardi se mi dai 500 euro ti faccio il tagliando e ti sistemo la frizione ok affare fatto 500 euro il tagliando la frizione è un'officina pro bono quindi va bene infatti il bello arriva adesso facciamo il passaggio di proprietà revisione fatta il mese prima mi sento in una botte di ferro purtroppo piena di esplosivo mi dice che la frizione non l'ha cambiata perché era in buone condizioni ma i 500 euro li ha voluti però gliel'ha detto come per dirti ciccio va che non te l'ho fatta ok passa un po di tempo arriva l'inverno e che fai metto il regolatore del climatizzatore sul caldo non l'avessi mai fatto appena il motore va in temperatura inizia a buttarmi fuori acqua dalla vaschetta rimetto subito sul freddo tanto in macchina ci sto al massimo per un quarto d'ora per volta strano perché avrebbe dovuto fare il contrario passa ancora un po di tempo e mi si accende la spia dell'alternatore 250 mila chilometri ci sta sarà saltato lo porto dal mio elettrauto 600 euro perché l'alternatore fa anche da pompa del vuoto ma la sorpresa è un'altra vado a ritirare l'elettrauto mi chiede da chi l'hai comprata ti faccio vedere una cosa c'era il filtro dell'aria distrutto sembrava che i topi ci avessero fatto dentro il nido e pensare che avevo pagato 500 euro in più per il tagliando mi chiama il giorno dopo e mi chiede di passare me la mette sul ponte sotto era marcia marcia e mi dice che non è roba recente nel momento dell'acquisto sicuramente era nelle stesse condizioni assolutamente non poteva passare la revisione ora la sto usando solo in azienda a breve la demolirò per sostituirla con qualcosa di più affidabile anche perché i vigili mi hanno detto che anche se la tengo ferma la rc auto devo fare lo stesso quindi pagare un'assicurazione per un'auto che non posso usare per strada non ha senso morale mai cercare risparmio estremo grazie e aggiungo prima mail di jean perché non vi rivolgete a un esperto ragazzuoli andate a vedere con qualcuno le macchine se il venditore ti dice la macchina è buona o ti fidi al 100 per cento di questa persona devi conoscerla altrimenti c'è adesso voglio dire questa è una macchina marcia quindi parliamo di cose gravi non stiamo parlando dell'alternatore che si è guastato o di quello che è rimasto a piedi cioè figa ma sta macchina l'avrà vista sul ponte sto meccanico ma io mi ricorderò sempre che per me quella era una era una cosa da picchiarci più dentro ma mi sono voluto fermare vi ricordate il video della barchetta grigia della limited edition questo ha comprato la macchina e lui gli ha detto ti faccio il tagliando alla macchina non ha fatto il tagliando alzo la macchina sul ponte e la macchina era c'è il video è online è di un po di tempo fa ma è online perché ero ancora più cicciotto di adesso la macchina era piena di catramina ma era marcia era marcia ma una catramina era stata sparata di ultra recente tra cui aveva sparando a manettone sta catramina ha schizzato sul filtro dell'olio e quindi gli ho detto ascolta vieni a vederla adesso all'acquirente quello che aveva preso a parte il fatto che la macchina fa caccare lucaz perché è marcia ma poi gli ho detto scusami le cose sono due o non ti ha fatto il tagliando e ti ha detto che te l'ha fatto oppure che è peggio ancora e per me è la seconda ha sparato la catramina dopo il tagliando perché ha beccato il filtro dell'olio quindi o non l'hai fatto il tagliando e hai sparato la catramina due anni fa che non ci credo perché era bellissima o l'hai sparata l'altro ieri e dopo ve li cambiato l'olio e quindi hai cercato di nascondere delle magagne che è peggio ancora in entrambi i casi mi stai fottendo ok quindi io voglio chiedervi ma ragazzi ma le cose ma c'è bisogno mi l'avranno regalata sta vitara ma mandala all'estero ti danno sempre 6 700 800 euro adesso che la devi demolire regalamela a me che io la demolisco e la porto oltre il collo e ci divertiamo tutti facciamo un mega video quindi guarda li recuperi questi soldi qua in divertimento credimi a me quindi non esiste una cosa del genere ragazzi cioè la serietà ormai non c'è più affidatevi a delle persone che conoscete e vi fidate di queste persone per comprare macchine o se no andate a vederle con qualcuno o del mestiere o che comunque ne sa siamo andati lunghissimi ragazzi allora le mail le mail è solo questa gabriele chiocciola gasi automobili punto it gabriele chiocciola gasi automobili punto it io vi ricordo sempre il nostro sito nel caso vorreste abbiamo stiamo aggiungendo delle cosine le macchine le stiamo aggiornando gasi garage punto it gasi automobili punto it gasi shop punto it tutte e tre queste si digitate tutte e tre questi domini sono tutti in uno solo quindi non potete sbagliarvi vi mando un abbraccio a tutti fatemi sapere con i commenti qua sotto i vostri racconti i vostri pareri se avete qualcosa da dire ai nostri amici è giusto che lo scriviate qua sotto perché non mandatemi le mail a me perché non è che posso leggere la risposta della macchina alla mail è assurdo cosa mi mandate 25 mail lo scrivete nei commenti qua sotto che secondo me è la cosa più veloce educazione anche se voi siete di idee cioè sono delle persone non è che bisogna pensare a tutti allo stesso modo se c'è un'idea contraria esprimere il concetto in maniera non cafona grazie un abbraccio a tutti buon proseguimento di domenica ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti